Allora cerchiamolo, eccolo qua, Carlo Cassola. Chi è Carlo Cassola? Carlo Cassola è uno dei letterati del Novecento, lettura imprescindibile per chi vuole conoscere i paesaggi della Val di Cecina. Nasce a Roma nel 1917, muore a Monte Carlo di Lucca nel 1987. Dai suoi studenti viene definito il lupo solitario, molto ombroso e molto introversa come persona, ma persona estremamente interessante e lo si scopre attraverso i suoi romanzi e i suoi racconti, forse più vivaci e interessanti. Decide di raccontare e di catturare il lettore nella vita quotidiana popolana e ci offre, tratteggia forse tra i ritratti più belli delle donne del Novecento. Sceglie di descrivere vite semplici, inserendoli in un ambiente estremamente semplice e idilliaco e tutela questi personaggi dal boom economico che negli anni Sessanta alienerà le persone in una corsa frenetica che polverizzerà poi quelli che saranno stati i valori di libertà e morali con cui lui stesso lo troveremo partigiano e combattente. Oggi però non vogliamo parlarvi di Carlo Cassola attraverso la sua narrativa, ma vogliamo parlarvi di Carlo Cassola come uomo e abbiamo l'opportunità di farlo attraverso un suo amico, ovvero Mosca, Vezio Gabellieri, staffetta per la ventitresima brigata Garibaldi, dove Carlo Cassola, nelle vesti di Giacomo, così era il suo nome di battaglia, ha svolto la sua attività di partigiano. Andiamolo a trovare. Vezio, chi era Carlo Cassola? Carlo Cassola è stato un mio grande amico e parlarne è un piacere e un dispiacere nello stesso tempo per la sua assenza ormai da tanti anni. Chi era Carlo Cassola? Un lupo solitario, innamorato di queste terre, conoscitore dell'ambiente, carico di ispirazioni letterarie, ma doveva forzare a se stesso per scrivere quello che in alto volteggiava nella sua mente. Stava in elite, ma Ivi non trovava lo spazio che lui cercava. Volava nella poesia, nell'alimentazione. Cercava figure ispiratrici che poi il lettore, portato a immedesivarsi dei luoghi, facilmente riconosceva nella storia maginara. Anche i suoi iscritti politici rientravano nel suo bisogno di incrociare l'essere con l'esistere, sempre come presagio d'incontro. Nel 1956 fu eletto nella Segreteria Nazionale Ampi con Bartolani, Mazzone, Rozzini, Itti e altri. Docente di filosofia a Cecina, al liceo di Cecina, per diversi anni seppe conquistarsi la simpatia. Vorrei quasi dire il cameratismo, seppure un po' graffiante, che gli studenti con i quali trovava il modo di esplicitare e ricevere una comunicativa aperta che contraddiceva l'essere lupo, come era classificato in più posti. Essere lupo. Vabbè. I suoi scritti ne parleremo infine. Ora ci sono delle domande ben precise che sono state poste e rispondo a quelle domande. Allora, senti, una domanda precisa. Innanzitutto, come vi siate conosciuti? Tra di voi c'erano dieci anni, dieci undici anni di differenza. Lui era già insegnante a Volterra, mentre tu eri ancora studente. Sì, sì. Carlo, ci siamo conosciuti quando io ero staffetta del Comitato Militare, del Comitato di Liberazione Nazionale di Volterra, e lui, con il nome di Battaglia Giacomo, era alla macchia, in un raggruppamento che poi divenne la ventitresima brigata Garibaldi. Mi attrasse la sua personalità. Lui, tenente dell'esercito italiano e professore di filosofia. Io, liceale antifascista, dall'età di dieci anni, antifascismo nato sia a casa che, peggio, a scuola, quarta elementare. Cosa è successo in quarta elementare? In quarta elementare è successo che io venivo dalla scuola di Borgo, Sant'Alessandro, con la maestra Cappelli che gestiva prima, seconda e terza classe distribuite in tre filate di banchi, ma era tutto contemporaneo. Sono andata alla scuola, alla quarta elementare, che era invece la scuola centrale dove c'era anche la direzione didattica. E lì è successo Patatrach, perché siamo entrati tutti, quelli della quarta, siamo entrati tutti in classe, previo invito del custode, che dice, ragazzi dentro, tutti dentro. Mio parente da lontana a tutti diceva che era mio cugino. Dice, vengo accanto a te. Sì, vieni accanto a me, va bene, vieni qua. E io andai di qua. Era la prima fila vicino alla parete, al muro esterno della scuola. Questo è importante. Quando siamo tutti a posto il maestro Tolomei che era il titolare della quarta elementare, entra dentro con arroganza e noi tutti ci siamo resi conto che aveva una infermità. Aveva perduto la mano sinistra della guerra ed aveva i guanti e la mano di ferro. Passa, ci guarda tutti e ritorna alla cattedra. Siete a scuola, dovete stare buoni e attenti a quello che vi dico. noi ragazzini tutti. Allora, prendete il quaderno, scrivete, diario. Fatto? Sì, bene. Che cosa ho fatto ieri? Questo è il titolo del diario. Ma non vi copiate. Mettete nella linea divisoria dei due tavoli delle stesse banchi. Mettete un quaderno. E' cominciato tutto di qui nella mia vita a venire. Mettete un quaderno. E tutti, noi tutti mettiamo il quaderno che non vuole stare su. Ci mettiamo l'astuccio, ci mettiamo i libri. Ma questo maledettissimo quaderno si piegava a tutti. Ero il secondo manco. Passa, viene, passa, si ferma. Dice, lo vedi che lui ti copia. Ma adesso non abbiamo ancora cominciato. Sfacciato sei. Mi prende con la mano destra. Mi tira fuori dal banco. Mi da un po' di botta nella guancia destra. Io batto la testa nel muro e cado in terra svenuto. Mi sono dimenticato di dire che quando lui è entrato in classe tutti a fare il saluto fascista rispondendo a lui. Mi sono svegliato da terra con Adolfo, il custode, che insuppava lo straccio con il quale pulivano il pavimento e ero un secchio d'acqua e ero tutto bagnato d'acqua, tutto da cima a fondo. E avevo dolore. Metto la mano e sento un rigonfiamento qua. Ecco, di lì è iniziato un mio modo di vita. Il mio modo di vita. specialmente per quanto riguarda simpatie e antipatie politiche, sociali, eccetera. Ma ci credo. Arriva il maestro Sensi che era il direttore didattico, amico del mio mambo, avevamo fatto la guerra 15-18 per un bel po' insieme. Diceva, insomma, cosa è successo? Vedi, vedi Adolfo che continuava a zupparmi. Fermo, fammi vedere. E io mi ero appena ripreso e sentivo queste parole. Ripreso, ma ero stordito. Lui va in presidenza, in direzione, telefono a mio padre, che lavorava in ospedale, a Volterra, in ospedale civile. Telefona, intanto mi fa portare via, mi fa asciugare, mi stende sulla poltrona. Arriva mio padre e scoppia la guerra. Però il mio padre dice fermo. Cominciamo da capo e rifanno la storia. Maestro Sensi disse Adamo, portalo via tu figlio da questa scuola perché ormai è rotto. A me mi hanno mandato questo maestro proveniente da altre scuole, nessuno lo vuole. Tutti, un anno, due, poi tutti fanno il diavolo a quattro per mandarlo via. Bene, mandalo via. Per farla breve io vado via, mio padre mi porta all'ospedale. L'ospedale c'era il sostituto primario, il dottor Giannelli che era un amico di Babbo, ma anche il nostro medico di famiglia, insomma, mi fa accudire per questo mobolo gonfio, che è durato sei giorni. Alla fine dei sei giorni ho detto via, puoi riuscire. Bene, mi hanno messo il collegio, il collegio l'ho convinto di San Michele per poter fare la quarta e la quinta elementare, cioè una scuola, una scuola privata. Io ho fatto la quarta e la quinta elementare con la maestra Santunza, che era veramente brava, un'eccellenza di bravura. L'ho fatta con lei e mi sono posto il problema. Come ricompenso i miei genitori che pagano tutti i giorni? Bene, ho trovato l'unico modo quello di guadagnarmi le tasse all'esame di ammissione al ginnasio. Mi sono guadagnato le tasse, sono andato preparato e di lì è cominciato il mio excursus. Terzo ginnasio, ma io contro il fascismo questo saluto, questo, perché quando ero tuttomaiato in terra, lui correva su e giù e diceva Duce, guardali queste pappe chiepite, devo farli impero? Con questi? Guardali, basta soffialli nel naso e ti cascano in terra. Questo mi è rimasto sempre dentro, creandomi uno stato d'animo sempre inferocito. E' nato così il mio contrasto con il fascismo. Va bene, terzo ginnasio. Terzo ginnasio. Tutto bene, un giorno nel corridoio, era lo stesso corridoio del Collegio San Michele, nel corridoio, giocando fra noi, una botta mi rompe il setto nasale. Prima, primo intervento chirurgico all'ospedale di Valterra non riuscito, ho dovuto aspettare, passare, secondo intervento chirurgico da un professore di Siena e il naso è tornato che respiravo. Ma tutto questo ha comportato una certa quantità di assenza alla classe. Comunque siamo arrivati agli esami e io sono andato agli esami. fatto il compito italiano, poi c'era il compito di matematica, a metà del compito di matematica il rompe il preside, come li eri, te, te, te. I sorveglianti dell'esame neppure sapevano, non sapevano niente. te, 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 te. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Io, sì. Te hai fatto due assenze più del consentito. Beh, e allora? Allora non puoi fare l'esame. Prendi i tuoi libri, lascia fin quel compito e ti ho fatto. E va via. Mi fece ripetere la terza, la terza ginnasio. E io ero ferocito, veramente. Me la sono portata dietro questo anche ora. E va bene, ho ripetuto la terza ginnasio. Poi quarta ginnasio. La prima volta che nella scuola, no, anche nelle prime tre elementari, ma per il resto, la prima volta nelle scuole, che guardo alla scuola come a qualcosa di bello, di grande, di dispensabile. Perché l'insegnante di lettere era un angelo custode, un'insegnante perfetta. Io mi sentivo impegnato a comportarmi bene e a studiare. Ho concluso la quarta ginnasio con la meta dell'otto. Quindi è bellissimo. Quinta ginnasio. La professoressa Sherry Pisana ebbe posto a Pisa. Ci siamo trovati una nuova insegnante. Un'altra insegnante, Volterrana, che non vi dico, cambiò tutti i posti a tutti. I figli dei professionisti, dei proprietari, dei proprietari terrieri, tutti davanti e gli altri tutti dietro. Anche quelli che erano nel collegio San Michele e c'erano da Peccioli, da Aiano, da tutti questi paesi dell'immediato introterra fra Pisa e Volterra. Che poi, come malfatti di Vada, a un certo punto, a metà dell'anno, e gli ho detto, ma ve l'andate tutti. Vabbè, e avete capito. Vabbè, basta, vado via, non ci voglio vedere più a scuola. Perché lei ci metteva e si mise tutti in condizione di difficoltà. Se è il figlio di un grande proprietario terriero, hai diritto. Se è il figlio di un operaio, devi andare avanti. Se è il figlio di un piccolo impresario edile, malfatti. Se è il figlio di me, devi andare a fare il muratore. E città. E avvenne questo fatto qui, insomma. La cosa fu grave, ma c'era il fascismo. E chi era fascista aveva sempre ragione. E anche la professoressa, questa professoressa, entrava in classe, lei in saluto fascista lo faceva così. Vabbè. Prima liceo. Prima liceo. Mi vociò, vado. Dovete dare l'esame a settembre. Il mio risentimento gonfiava dal sapere come fare. Prima liceo. Prima liceo scoppia la guerra. Scoppia la guerra e le cose si mattano male. Per me era il momento di rivalza, ma come facevo? Niente. Se avevo delle amicizie anche fra i figli e le figlie dei fascisti. Insomma. Mi arraggiai. Mi arraggiai. La guerra avanti. Io fui contattato da un lontano parente di mia madre. Aveva lo stesso cognome. e mi arraggiai. Ma sul momento non fece niente. Mi arraggiai. Perché? Perché lui mi proponeva di entrare nell'antifascismo. Bene. Siamo arrivati. Siamo arrivati al momento. All'8 settembre 1943. Io ero alla scuola dei miei ufficiali. Ero stato richiamato per la seconda volta alla visita militare. Alla prima mio padre aveva trafficato. Ero stato fatto abile ai servizi sedentari. Poi la guerra cominciava ad andare male. E poi richiamarono. Ci richiamarono un po' tutti. Io fu mandato alla scuola allevi ufficiali. E con me ci trovai altri che erano stati collegiali o ginnasiali a Volterlo. Bene. Questa è la mia storia. Incontrai Niccolò Vazzetti. Questo lontano parente della madre a cui ho accennato prima. E mi cominciò a parlare dall'antifascismo. Che è l'8 settembre. Perché io ero scappato dalla scuola delle ufficiali. Ti faccio una domanda. Visto che hai dato questa data. Come? Visto che hai dato questa data. 8 settembre del 1943. Sì. Com'è stato quel giorno? Terribile. Ma più che l'8 settembre, che è quello che scoppiò tutto, fu arrestato Mussolini, fu portato all'Aquila, internato all'Aquila. La mattina del 9, i tedeschi si resero conto che avevano perduto il dominio dell'Italia. E voi? E partirono tutti dove era possibile. Sequestrarono, occuparono, arrestarono, imprigionarono, le fecero al diavolo a quattro. Trovavano anche tanti giovani. Alla scuola allevi ufficiali c'era come terzo comandante, un maggiore, che era veramente grande. Perché non era di carriera, ma era di complemento. Da civile faceva il prestito di scuola. La mattina alle 7, con quell'altro comandante, noi eravamo tutti schierati sul piazzale, tutti sono attenti. Quella mattina alle 9, nessuno si era visto. C'era solo questo maggiore. Arriva, sale sul podio. Tutti dicono, attenti beh. Ora rimane in riposo. E disse una parola che ci gelò tutti. Ma ci dette anche un soffio di vita, subito dopo. Ragazzi, ci disse. Ragazzi. Ragazzi. Ok. Ragazzi, calma e sangue freddo. Cos'è successo, più o meno lo sapete. Sì, c'erano arrivate delle voci dal personale esterno dell'Accademia. Ma, insomma, cos'è successo, più o meno lo sapete. Da un momento all'altro c'è da vedere arrivare i tedeschi. Ci pigliano tutti e ci portano via. Dove si va a finire? Non si sa. Ascoltatemi bene ora. Finché uno di voi sarà qui dentro, ci sarò anch'io. Era dire, come dire, via, scappate, scappate. E scappamo. Ci credo. Io camminai ormai questa mezza giornata, più la notte, più tutta la notte addoppato sotto la perce. A aspettare il giorno. Al giorno riparti e arrivai a Volterra. Arrivai a Volterra e a Casaria, insomma. passò un po' di tempo. Io avevo dell'amicizia anche tra i fascisti e quindi soprattutto tra i ragazzi e le ragazze. insomma mi facevo cominciai a farmi vedere un po', ma nessuno mi dava no. Altri furono arrestati e poi spediti anche qualcuno di Germania. Io no. Questo mi incoraggiò. Conobbi Niccolò Mezzetti. Niccolò Mezzetti con il quale dietro le mure etrusche, ai piedi delle mure etrusche, dietro l'ospizio di Santa Chiara di Volterra, siamo stati, ci avevamo dato appuntamento, siamo stati lì tre ore a parlare. Alla fine di questo colloquio, di questo incontro, io ho aderito all'attività clandestina e sono stato indicato come non partigiano ancora perché la brigata non c'era, ma c'erano dei gruppetti. mi diceva a loro, però Niccolò Mezzetti mi disse che devi agire, che dovrai viaggiare, il tuo compito sarà viaggiare e sarà pericoloso. devi andare a Pisa, dovrai andare a Siena, a Cascina, a Cone Valdelsa, dovrai, se si riesce a stabilire la brigata partigiana, dovrai andare anche lì. quindi sarai esposto sempre. Hai paura? No. Quell'occo si è indeciso perché scaturiva così dalla rabbia che avevo dentro, accumulata. Bene. Di lì nacque la possibilità di incontrare Carlo Cassola. Com'era come combattante? Eh? Com'era come combattante? Com'era come combattante? Come combattante Carlo Cassola? Io lo dico infatti, sì, Carlo Cassola, come combattente non posso dirlo, però è grazie a lui, ai suoi consigli, alla sua capacità organizzativa che le varie squadre di partigiani inviati a compiere delle azioni non hanno subito morti. Quelle guidate da lui erano sempre prevenute verso questo, verso quell'altra cosa. Attenzione qui, attenzione là. Non vi incontrate in questo modo, fate quest'altro. Cioè, i consigli di Carlo Cassola alle squadre che partivano per azioni, per combinare, per fare delle azioni di guerra, sono stati veramente utili. Io dico che con Carlo Cassola rispondo, ora comincio a rispondere alle vostre domande, se non è troppo. No, no, fa benissimo. Con Carlo Cassola ci siamo conosciuti quando io ero staffetta del comitato militare. Lui, con il nome di battaglia Giacomo, era alla macchia in un raggruppamento e poi divenne la 23esima brigata Garibaldi. Fui attratto dalla sua personalità. Lui, tenente dell'esercito italiano e professore di filosofia. Io, liceale antifascista a livelli proprio arrabbiati, fin dall'età di circa 10 anni, avevo subito per tutti questi anni qualcosa che urlava bisogno di sfuga. Ecco, Carlo Cassola possedeva un ammirevole spirito di adattamento. Anche nel linguaggio amava gli ideali di libertà. Nell'ideale di libertà inquadrava ogni aspetto della vita, pubblica in particolare, ma anche privata, senza limiti di lignaggio o di rango. La cultura per lui doveva essere l'elemento attivo per l'erudizione dello spirito, dell'intelletto e della moralità. Il suo essere tenente, se dicevo prima, si è dimostrato importante. Si è dimostrato importante perché non ha partecipato a battaglie, ha insegnato come si minano i ponti, ha insegnato tante cose. A questo branco di scomenzacolli scatenati, ignoranti della guerra che eravamo noi. No, io particolarmente perché io correvo in bicicletta in su e giù, da Pisa a Bambino, da Pisa a Siena, a Poggi Bonzi, a Collevalderza, insomma era un correre continuo. Io avevo partito con la bicicletta di mio padre, che era una bicicletta vecchia, pesante, se ne resero conto al comitato militare, e mi chiamarono e mi consegnarono una bicicletta modernissima che era di un ragazzo che era stato mobilitato e era in Russia con l'esercito italiano a combattere in Russia. E con quella, usarla io, la riempì le ruote di Toppini, 22 ce n'era per i mesi dei Toppini, perché allora sono asfaltate, erano pochine, per non dire punte. Vecchio, una domanda. Una cosa importante, Cassola viene da una cultura molto alta. Cassola, hai detto che lui è laureato in filosofia, viene da una cultura molto alta. Come si è confrontato con la realtà di Volterra? Ma lui si era comportato bene e non frequentava molto. Quelli che frequentava erano veramente pochi. Soprattutto conumbe i membri poi del Comitato di Liberazione e del Comitato Militare. Io posso dire di come si è comportato con loro, in maniera veramente lodevole. Poi è ritornato perché lui c'era, venne via, poi ritornò alla macchia. Ma nelle discussioni c'era sempre un ondeggiamento verso destra o verso sinistra. In particolare era sempre difficile l'incontro dialettico tra la sua destra e la sua sinistra. Non sempre ben manifesta fra economia e sociologia. E questo era un aspetto importante di lui. Eh sì, questo era un aspetto importante ed era l'aspetto in cui nascevano sempre, nascevano sempre le discussioni. e nascevano queste discussioni tra le quali se era in ambiente riservato ci stava, altrimenti se c'era troppa gente o se insomma c'era qualcuno che non era aggredito, lui se ne andava. Eh perché quello che si evince da lui, quello che si evince dalla sua penna, è il fatto che lui non è né di sinistra né di destra. Lui lo dice, no? La letteratura deve schierarsi a favore della vita. Quindi non essere di sinistra e non essere di destra, molto spesso ha trovato critiche feroci, basta pensare a Vittorini, no? Quando lui ha detto, no, la letteratura non deve essere a favore del partito comunista, ma deve ovviamente schierarsi nei problemi della realtà. Lui ha fatto dei ritratti femminili estremamente importanti, no? Le sue donne sono forse tra i ritratti del Novecento più belli, perché racconta di donne che comunque nella loro scelta si pongano come personaggi rilevanti. Ci sono state donne partigiane nella vostra brigata o comunque nell'ambito di Volterra di cui ci vuoi parlare, magari che lui poi ha riportato nella sua letteratura? Le donne partigiane erano oltre 40, mi sembra 43-44, raccoglievano, il gruppo raccoglieva sia in elite che fra il popolo. A capo di tutta questa brigata, di questa brigata, c'era la Lola Bardini, c'era la Lola Bardini, che era un insegnante. Lola Bardini, abitava in Borgo San Giusto, che fu nominata coordinatrice del gruppo, fu nominata coordinatrice perché era comunista, di famiglia comunista, di parenteli, tutte comuniste, fu nominata coordinatrice del gruppo. Poi anche lei a un certo punto fu scoperta e fu scoperta e allora si trasferì alla macchia dove c'era già il suo fidanzato, poi marito, dopo guerra, marito. Ma state là anche lei, con la pistola al fianco, insieme agli altri partigiani. non prese parte ad azioni, ad azioni armate, però era sempre in piedi a lavorare. Cosa fecero queste donne? Ah, lei aveva il soprannome, il nome di battaglia di Clara, con il K, facciamo scherzi, russa. russa. Clara, che purtroppo, guarda a casa, è morta il 9 aprile di quest'anno, aveva poco meno di me. Il 9 aprile è morta, a Roma, perché dopo guerra lei e il marito si trasferirono a Roma. Il marito aveva una banca, lei era al ministero delle pubbliche istruzioni. Questa è una di tessera, insomma. Ma era veramente, veramente brava. Carlo, ritorniamo al Carlo. Ma dopo la guerra la nostra amicizia è proseguita e mutata, ma l'argomento era spesso politico. Io vedevo delle positività che spesso lui non condivideva. Ovviamente il nostro vivere aveva motivi e spessori diversi. Lui l'insegnamento scolastico, io lo studio universitario e la responsabilità nell'Ampi. e quindi i nostri incontri, poi lui ebbe l'insegnamento a Cecina e quindi io ebbi un incarico a Roma e quindi sono stato cinque anni e mezzo a Roma. e quando lui è morto io ero ancora qui, ero ancora qui. L'ho vissuto quel momento. L'ho vissuto con grande tristezza. Poi il fatto che lui abbia posto tre nomi per il suo attropasso, tre nomi di accompagnamento al cemitero. il sindaco di Volterra, Mario Giustarini, Enzo Lutti, segretario dell'Ampi, io presidente dell'Ampi Lutti, io segretario dell'Ampi e membro del consiglio regionale dell'Ampi. insomma, erano tutte cose che anche se eravamo lontani ci legavano. Anche questa ci legò tutti quanti, noi gruppetto, alla memoria. Carlo rimase nei nostri cuori, rimase nelle nostre menti, rimase nel nostro pensare, rimase nel modo che ci faceva criticare noi stessi perché certe volte non si riusciva a seguire l'indirizzo di ricerca che ci aveva dato lui, che ci aveva insegnato e sul quale aveva insistito. siamo stati oggetto un po' di questa... di questa... sì, chiamiamola come si vuole, voglio dirla la parola, ma insomma siamo stati tutti un pochino soggiogati da questo modo di pensare, da questo fabbricare le idee, perché lui ci consentiva questo. Vezio, da un amico, da amico a amico, da amico ad amico, cos'è che puoi criticare di lui? Cos'è che non andava bene di Carlo Cassola? Cos'è che? Cos'è che non ti piaceva di Carlo Cassola? Cos'è che li trovi di difetto? Che difetto aveva secondo te? Purtroppo e con dispiacere mi sono trovato a criticare in lui il disprezzo verso una società tendente sempre più al menefreghismo e all'affarismo, che io ingenuamente giudicavo come storia di passaggio, ma aveva ragione lui. Il tempo lo ha dimostrato oggi, l'ambiente in cui viviamo oggi lo dimostra più che mai ancora. Non so se ho risposto. È risposto perfettamente. Ho risposto? Perfettamente. Purtroppo perfettamente. Io direi che Cassola va saputo leggere, va saputo leggere. Il suo scrivere è di un semplicismo complesso. So di usare una frase difficile. È un semplicismo complesso. Nessuna parola appare sprecata, anche se talvolta appare ambigua. Tutti gli scritti di Cassola contengono un messaggio che, per come è collocato, non è sempre ben individuabile. Ma se ci riesci avrai risposte culturali, originali e in benefit. Un'ultima domanda. Tu sei stato, l'hai vissuta il tuo ruolo da partigiano. Come? Sì. Tu sei stato partigiano, no? Giustamente. Puoi dare un giudizio e poi dirci, secondo te, chi ha descritto bene i partigiani nella letteratura, nei film? Chi li ha rappresentati bene? Se tu dovessi dire a un ragazzo, leggete questi libri o guardate questi film e chi, secondo te, invece, proprio non ci ha preso proprio? Nessuno. Dai. Nessuno, perché, e mi dispiace dirlo, tutte cose artefatti. Io ho visto dei film partigiani, ho letto dei libri, ce l'ho anche. Ho buttato via tanti libri, tanti spazi sono, non li vogliono più neppure venditori di piazza, non li vogliono più neppure venditori di piazza, ma insomma. La realtà partigiana è stata diversa da quella che si dipinge con i gruppi di partigiani venditori, vestiti alla maniera. Quando... Allora vi posso raccontare episodio che è capitato a me che ho vissuto io. Certo. Nel mio fare la staffetta, un giorno, mi chiamano a Pisa, c'era tutta una serie di telefoni, perché nelle famiglie c'erano pochissimi telefoni, però alcuni erano collegati. mi chiamano a casa strana, ma si è verificato più volte. Mi chiamano il prete della parrocchia, mi chiamano, in casa mia non c'era il telefono. e su, suona la porta e mi dice, Gino, dica a Vezio e venga subito da me. Cioè che? Sono prete. Va bene. tornavo da scuola, vado e una volta vado e mi hanno telefonato da Cascina. Cosa c'è? Devi andare subito a Pisa. Vado a Pisa. Subito. Va bene. Forco la bicicletta e vado. Non subito, perché ormai era tardi. Alla mattina non vado a scuola e mia mamma, pover'uomo, era chiamata dal preside a giustificare tutte le giustificazioni che presentavo io. E me ne firmava uno che firmava quasi come mio padre. E poi io fui costretto a mio padre a farmi scoprire. La mattina forco la bicicletta, al solito, e vado a Pisa. Allora in Pisa c'era quello che poi divenne il comandante della 23esima brigata Garivadi. Lasciamolo perdere. Vado lì, che è successo? Anzi mi fermo a Cascina e trovo Chiona, che era un altro come me, come è di Cascina. Dice, sei arrivato. Sì, andiamo subito. Va bene. Era una Pisa. Allora si va in quest'antro dove c'era un odore nauseante di acquetta. Di acquetta. Perché lui, questo comandante, aveva fatto la guerra di Spagna nelle Brigate Rosse. Poi una vita avventurosa, poi è entrato in Italia quando c'era la guerra. Insomma fu ricercato quando l'8 settembre è successo l'affare lì. Bene. E si era messo a fare la acquetta. E se che, là dentro non si respirava. E io l'ho conosciuto lì il comandante, il futuro comandante. Ciao. Che c'è? Gli alleati sono disponibili a mangiarci i rifornimenti. Bene. E allora? Allora c'era un bigliettino così. No, un pochino più grande. Un pochino, ma poco. Dove c'era? Tutta. Sud, nord, est, ovest. I gradi, tutte le gradazioni, eccetera. E poi tutta una serie di scritti in fondo. Questo è il numero di raccordo. Che devo fare? Te devi andare a Piombino. Domani mattina alle 11 ti aspettano a Piombino. Allora vai a questa strada. Troverai a un certo punto, subito prima di Piombino, troverai uno vestito in questo modo. Con una sciarpa al collo di questo colore. E' lui. E io che devo fare? Niente, te ti fermi, lo saluti e gli dici, sono io. E lui ti risponderà, sono anch'io. Va bene. E che devo fare? Siccome te sei radiotelegrafista militare, io avevo seguito il brevetto con 119 su 120 battute a minuto, trasmetterai in Corsica alla RAF, questo è il numero, trasmetterai in Corsica alla RAF questi numeri, tutti questi segni che vedi, tutti. Non è saltare uno perché rischi di farli sbagliare. Vabbè. Così ho fatto. Sono andato a Piombino. Ho trovato questo. Siamo andati, l'ho seguito. Siamo entrati in un portone. Abbiamo salito le biciclette dentro, abbiamo salito le scale e siamo andati in cima dove c'era una radio trasmittente. proprio dal Cime. E ho trasmesso, ho chiamato, e ho trasmesso tutto il bigliettino, come c'era. E sono venuto via, sono venuto a casa. Tre notti dopo, alla radio del prete, sento, ce l'avevo anch'io la radiolina e l'avevo fatta da me, ma mi prendeva tutto. Alla radio del prete sento la parola d'ordine. Stanotte, quando lo lancio allora, è andato a buon fine. Io non sapevo che un altro anche dalla zona fiorentina aveva fatto la trasmissione per convolta. l'ho saputo dopo che c'era stata questa. Vabbè, corro la sera a buio, corro sul piazzale del carraio, se c'è lì vicino a casa mia, a volte mi nascondo e aspetto, aspetto, finché sento da lontano. Era l'apparecchio che arrivò su Berignone, perché i primi due lanci furono fatti in Berignone, gli altri invece in Carlina, dove la banda si era trasferita perché c'era bisogno d'acqua, c'era bisogno... che lì non c'era e sento quest'aereo, vedo che accende e speggio un bucchio di lucine, va su, poi lo sento ritornare giù, poi lo sento ritornare su, lo sento ritornare giù e andare via. E' andata a buon fine. E' andata a buon fine. Si però c'era un intermezzo. Io tornando a casa da Pisa, con questo biglietto, a Peccioli, al bivio di Peccioli, fui fermato dalla solita squadra di militi, che erano lì per sorvegliare la linea ad alta tensione, che dall'aldarello portava l'alta tensione a Spezia, dove c'era il cantiere navale della decima massa. Tornavo da Pisa in bicicletta e avevo questo... Ma ormai con quei militi lì al bivio di Peccioli eravamo amici. Io mi fermavo, li vedevo, non aspettavo che mi facessero altro, niente. Mi fermavo, si chiacchierava, loro guardavano i miei libri e io avevo perso un anno scolastico. Andavo a Pisa a studiare, per studiare da professore e poi avrei dato gli esami. Mi stava bene e guardavano tutti, i libri, tutto. Quel giorno, invece di trovare i soliti amici, fra virgolette, trovo uno vestito in divisa completa, con un sacco di simboli di morte secca sul cappello. Non dico quello io, vado là, si mette in mezzo allo strato. Fermo lì! Mi fermo. Devo... Scendo a terra! Va bene, scendo a terra. Vado avanti, vado avanti. Nel frattempo arrivò un carro agricolo con un uomo e due donne sopra che tornava dai campi. Questo disgraziato mi fece spogliare completamente. 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 Poi razza di cane, va bene? Razza di cane, col pugnale, tutto, eh, tutto, tutto. Anche le scarpe, i calzini, tutto. Era completamente nudo. Con questo carro, con questo uomo e queste donne sopra. Così era aperto tutto. E questo delinquente tirò fuori il pugnale e andò a spostarmi i testicoli a destra e a sinistra per vedere se ci aveva nascosto qualcosa. Ho detto, a te te la faccio ripagare. E gliela fece ripagare. Te la faccio ripagare dove si voleva. Le armi, vivere e munizioni arrivarono. Cimino, che era la mia guida di Volterra fino a Beriglione prima e in Carlina poi. Lui andavamo avanti, io andavo dietro e arrivavamo all'accampamento. Cimino, coraggio, ci restò un secco ma insomma. Cimino dalla brigata mi portò cinque candelotti di lamente. Vabbè, se l'avevo chiesto io. A Cassola! E disse te vai da Carlo, da Giacomo e dille che ho bisogno di candelotti di lamente. Ma per cosa ti servono? Non ti preoccupare. Dille a Carlo che mi servono cinque candelotti di lamente. Torna dopo due giorni. Eccola di lamente. Beh, io tre sere dopo sono partito, ho viaggiato di notte e sono andato al Bibio di Peccioli. Poco prima, ho minato tre antenne della corrente dell'alta tensione. Cioè, minato. Adesso sono di metallo, sono grosse. Bene. Ho messo... A uno ne ho messe due di questi affari di lamente. A un altro ne ho messe due. E un altro ne ho messo uno solo. Poi, però, ho graduato i tempi. Io ho cominciato di qui e poi ho fatto la forza lassù di notte. C'era la luna. E poi a quell'altro. Ho detto di fuoco. E correvo. Ho detto di fuoco a quell'altro. Ho detto di fuoco a quell'altro. E li feci saltare. Una non scoppiò. Quella unica non scoppiò. Fortunatamente quell'altro scoppiarono tutte. E le antenne cadero. E tre giorni dopo, vista la inutilità ormai di questa squadra che era di fascisti a Peccioli, la spostarono e la mandarono a Nord Italia. Non ho mai visto quell'uomo e quelle due donne sul carro trailato da buoni. No, non l'ho mai visto. Ma credetemi che ci si resta male. E il foglietto dove era? Il foglietto dove era? Dove l'avevi nascosto il foglietto? Sperquisito non solo me, ma tutta la bicicletta. Fortunatamente si dimenticarono di capovolgerla. perché io l'avevo mandato giù nel tubo che regge il cellino. Ah, senti. La bicicletta là, così, qui c'è il cellino, qui c'è il tubo che va giù. E io l'avevo infilato, ci avevo messo un pezzo di rame, la giù a Pisa e l'avevo legato in fondo e poi l'avevo fatto scivolare tutto in fondo. E lo trovarono, sennò mi fucilavano. E loro se ne andarono tranquillamente. al nord, a fare la guerra al nord. Stavo triste. Io direi che abbiamo detto tutto. Io non so se posso dirvi altro. No, abbiamo detto tutto. Anche di Cassola o di... Abbiamo affrontato tutto e abbiamo un bel po' di girato. Ah, ti faccio l'ultima domanda. Deluso? Eh? Siete stati delusi dopo la guerra? Mamma mia. Inizialmente no. Carlo aveva saputo leggere anche lì. perché dopo tre anni mi disse, una sera eravamo insieme, mi disse, andrà bene, ma io non ci credo. perché sempre così pessimista. E io, un po' voglio essere pessimista così. Dice, no. Dice, non si va. Non è questa la linea della democrazia. È tutta una corsa. È tutta una corsa. Una corsa alla politica. Ognuno... Mi mese anche l'imbarazzo. Mi ricordo le precise parole. Ognuno vuole essere padrone di un pezzetto. Ah, non abbiamo senso. Insomma... Aveva ragione. Aveva ragione. Vediamo le condizioni in cui siamo oggi. L'economia sfasciata. La moneta per aria. I giovani non sanno più cosa cercare. Si rifugiano in loro stessi. Non ragionano più a diritto. Ragionano per quello che spropositamente si passano l'un con l'altro. E questo è un grave, gravissimo male che oggi, che oggi, tocca tanti giovani. Che invece di imparare a gestire la politica, l'economia, la socialità e quindi tener conto delle necessità del popolo. Pensano alle futilità. Niente. Pensano a fare tutto quello che potrebbero fare anche normalmente sul piano pratico ma che loro debbano infarcire di tutta una nebulosità che nasconde anche a loro stessi. Il pensiero reale è lo scopo vero che non è quello che cercano loro ma è quello che va a colpire, che va a schiantarsi sulle spalle del popolo che andando avanti così, fra poco, veramente, chi ci sarà se ne accorgerà. E Dio che ci sarà perché, se vorrei, a me ormai mancano 15 giorni a 100 anni e quindi le mie speranze sono lì. ma è veramente un grosso dispiacere. Tuttavia non rimpiango né il sacrificio dei partigiani né il sacrificio di chi, non essendo partigiano, ha subito come i caduti di guardistallo, sono persone che per le cattiverie altrui sono stati ammazzati. Posso solo auspicare che il popolo e in particolare i giovani, i giovani smettano di pensare alle fanfaluche come stanno pensando, mettano i piedi in terra e si facciano carico delle responsabilità del vivere in tutti i suoi aspetti dal guadagno al pane senza le scarafacci. perché veramente siamo arrivati a un punto di povera gente, veramente. Non valeva combattere per avere un'Italia o anche un'Europa, un mondo così. una terra squassata in questo modo fa veramente vergogna. Ma a chi? A chi gestisce la politica, a chi gestisce l'economia, a chi gestisce la sanità, a chi gestisce tutte queste cose che sono importanti, primarie per la vita dell'uomo, che è il bene prezioso che c'è su questa terra. Non ce ne sono altri. Grazie. Grazie. Grazie.